PEC, telefonia, assistenza remota, SMS web, Wi-Fi hotspot e tanti altri. I servizi che ti offre Arianet. In esclusiva per te collegamenti internet ad alta velocità e la diretta streaming degli eventi della tua città. L'azienda di telecomunicazioni Wi-Fi molisana ti garantisce sicurezza ed efficienza. Arianet Wireless Generation. Telefono e internet ovunque senza fili. In via 4 novembre 38 a Rotello.